Le patate, questo è un pruno, la malva, l'aiuola delle aromatiche in mezzo che è rotonda, poi invece qua ci sono i peperoni e le barbabietole, la camomilla, la borragine, si mettono i fiori nell'insalata. Ma ci hanno messo questi rami secchi qua attorno? Eh? Hai messo tu questi rami secchi? Sì, perché la menta mi ha detto che allontana gli affidi. Ah, la mentuccia hai messo? Sì. Ebbene, ma mettila sempre fresca, almeno. Tanto ce ne ha in quantità industriale.